Sesta finale Scudetto, terza consecutivamente, nove finali raggiunte negli ultimi due anni, se c'è una competizione, la Lube c'è fino in fondo, è questo il verdetto della semifinale con Trento, battuta ieri per 3-0, in un match equilibrato solo nel terzo set, con i cucinieri perfetti in attacco, ricezione e servizio e trascinati da un immenso Guantorena MVP del match. I complimenti, complimenti a tutte le squadre, alla società, allo staff perché sembra facile ma non è mai facile arrivare in finale, il campionato italiano ogni anno sta diventando più difficile come squadra molto forte, per cui complimenti a tutti noi, godiamoci questa serata e aspettiamo il nostro avversario domenica. Fare tutta questa strada che abbiamo fatto fin dalla prima partita contro Padova, lì a Padova, non è stato facile, per questo dobbiamo godere questa finale perché non è mai scontato, è anche una cosa molto difficile da succedere, per questo godere adesso, forse oggi, forse domani anche se FF ci dà un altro giorno di staccare un po' la testa e da sabato già subito pensare a questa finale. Una serie di quelle veramente toste, avversario di altissimo livello, abbiamo veramente dovuto tirare fuori il meglio del meglio per avere ragione di questa squadra, sono contento chiaramente che ci siamo qualificati per questa finale, che era chiaramente un obiettivo forte che avevamo, ma anche per come abbiamo interpretato e giocato questa partita importantissima. Ora le due finali, in un maggio da sogno per uno storico double, il 18 maggio a Berlino la Champions League e il primo maggio l'inizio della serie di finale, ancora senza avversario però Modena e Perugia infatti si giocheranno l'accesso in un'emozionante gara 5 domenica prossima.